L'operazione Mare Nostrum è stata un'operazione criminale, è stata un'operazione fallimentare, è stata un'operazione di invasione. Siamo l'unico Paese al mondo, Ministro, che paga per essere invasi. Siamo l'unico Paese al mondo che utilizza le navi della Marina Militare per farci invadere, che andiamo a prendere i migrati clandestini, perché i numeri dicono che la stragrande maggioranza di coloro i quali sbarcano sul nostro territorio non sono profughi o migranti, come piace essere chiamati da parte della Presidente Boldrini, la sacerdotessa degli immigrati, ma sono i migrati clandestini. Quello che non diciamo qua lo diremo sabato 18 alla manifestazione di Milano, che non è né uno ioglu scaduto né una buconata, Presidente Cicchito. Abbiate rispetto per un grande esempio di democrazia. Finisco, Presidente, perché in quella piazza non ci saranno solo leghisti, razzisti, rozzi, in quella piazza ci saranno tanti cittadini, uomini, donne, disoccupati, casse integrati, che si sentono discriminati da questo governo. Non è la lega di essere razzista. Siete voi che state facendo della discriminazione al contrario nei confronti dei cittadini. Ministro, faccio al Ministro dell'Italiano e non degli immigrati. Grazie. Grazie. potessi intervare e ammogliere i cartelli, non solo i concettini cartelli di quest'aula.